Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina, in questo video vediamo come usare lo smartphone per pagare contactless, ovvero quando noi prendiamo il nostro bancomat o la nostra carta di credito e la appoggiamo sul lettore del venditore per pagare senza fare codici, senza fare niente. Lo facciamo con lo smartphone perché è simpatico da fare, preferisco tirare fuori lo smartphone piuttosto che la carta di credito, ma è anche più sicuro rispetto alla carta di credito o bancomat, quello che è. Allora, vediamo di fare mente locale e di capire bene che cos'è questa cosa. Allora, noi abbiamo la nostra carta di credito, il nostro bancomat, che può pagare contactless. Ecco, se può pagare contactless, quindi per contatto, allora la tua carta funziona. La prendi, la appoggi al lettore del venditore e paghi. Se invece la tua carta non è contactless, non puoi usarla per pagare appoggiandola al lettore del venditore, ma puoi usarla per pagare appoggiando lo smartphone al lettore del venditore. Quindi se la tua carta non è contactless, non è un problema, usi lo smartphone e lo smartphone farà il lavoro al posto suo. Quindi questo, se vogliamo, è un vantaggio. Però facciamo attenzione a una cosa. Allora, intanto vediamo se la nostra carta è contactless oppure no. Allora, io ho qui il mio portafoglio dove tengo le carte. Te lo faccio vedere per una questione specifica che adesso ti spiegherò. Allora, vado a prendere la mia carta. Eccola qui, come sempre, la mia carta di pagamento preferita per le cose online, lo dico sempre. Eccola qui, questo simbolo qui, questa specie di ventaglio, è il contactless. Quindi vuol dire che con questa carta io posso appoggiarla al lettore del venditore e pagare piccoli importi. Non so quale sia il limite. Questo comporta che se quando sei in un luogo molto affollato qualcuno ti appoggia un lettore apposito dove tieni il portafoglio alla borsetta o che so, vicino alla giacca, eccetera, o sullo zaino, magari in metro, cose varie, ti prendono i soldi dalla tua carta. Perché è contactless. Quindi con un lettore apposito si possono prelevare i soldi. Ecco che allora esistono i portafogli sicuri con una protezione. Questa banda qui di alluminio, che ne so di che materiale è, metallico, è una protezione. Le carte qui dentro non possono essere lette con i lettori. E ormai praticamente tutti i portafogli un po' seri, se vogliamo, hanno la protezione per il discorso del contactless. E questo portafoglio qui, che non sponsorizzo perché non è una sponsorizzazione, me lo sono comprato, è fantastico. Quindi ragazzi, se lo riconoscete, è fantastico e quindi vale assolutamente la pena. Quindi la carta è al sicuro dentro il portafoglio e quindi non può essere prelevato niente perché c'è la protezione contactless. Ma noi adesso, lasciando perdere la carta, vogliamo pagare contactless con il nostro smartphone. Perché ce l'ho sempre a portata di mano. Faccio prima tirare fuori dalla tasca lo smartphone, appoggiarlo al lettore e pagare con lo smartphone. E la mia carta può essere a casa, può essere comodamente nel portafoglio, può anche non essere contactless perché tanto non serve che lo sia. Basta che sia contactless, tra virgolette, lo smartphone, e adesso vedremo. E poi lo smartphone offre una sicurezza in più. E ne parleremo alla fine. Allora, che cosa devo fare? O in realtà, che cosa ho già fatto per attivare questa funzionalità? Lo smartphone utilizza la funzione NFC, Near Field Communication, comunicazione tra due dispositivi vicini, in pratica. Tra due smartphone, tra smartphone e POS, oppure tra anche altri dispositivi che adesso magari non mi vengono in mente o che neanche hanno ancora inventato. Quindi se io appoggio il mio smartphone a un altro dispositivo NFC, c'è uno scambio di dati. Questa funzionalità viene utilizzata per il pagamento contactless. Quindi se il tuo smartphone è NFC, e quindi ha questa caratteristica, puoi usarlo per pagare con lo smartphone in maniera contactless. E quindi adesso andiamo a vedere come si fa a fare questa impostazione. Per cui io ho registrato il video mentre facevo questa cosa e lo commentiamo, ci parliamo sopra. Mi sono messo qui e ho detto, ma sai che voglio provare l'NFC del mio smartphone? Benissimo. Quindi, dato che so che il mio smartphone è NFC, presumibilmente avrà bisogno di una impostazione. Dovrò attivare questo NFC affinché funzioni. E dato che adesso andiamo ad attivarlo, ti invito a tenere d'occhio questa area qui dello schermo. Questa icona è quella della registrazione. Stavo registrando lo schermo del mio smartphone mentre facevo questa cosa, così adesso possiamo commentarla. Ma qui ne apparirà un'altra, che sarà l'icona dell'NFC attivo. Andiamo a vedere che cosa ho fatto. Quindi sono partito e dato che è una regolazione, sono andato in impostazioni. Quindi impostazioni del mio smartphone per impostare questo NFC. Non so dov'è, o so solo che c'è nel mio telefono, e non ho idea di dove si vada a fare questa impostazione. Quindi a un certo punto mi sono detto, scriviamo qui in cerca impostazioni NFC e vediamo che cosa salta fuori. Andiamo avanti con il video. Vedremo che scrivo questa cosa. Ecco qua, NFC. E il mio smartphone subito mi dice NFC, connessione e condivisione NFC. Ok, ci premiamo sopra per andare a vedere che cosa succede. Qui ci sono un po' di funzionalità, quindi mi guardo attorno finché trovo NFC. Consenti lo scambio di dati quando questo dispositivo ne tocca un altro. E quindi qui ho acceso l'opzione. Vediamo. Vado ad accendere l'opzione. Perfetto. E a questo punto vedo che c'è pagamenti contactless. Quindi mi dico che questa cosa avrà a che fare, sarà attinente a questo NFC. dato che io voglio proprio attivare i pagamenti contactless. Quindi sicuramente sono andato a premere anche lì sopra, per cui faccio scorrere. Premo su pagamenti contactless e vedo che l'app predefinita per i pagamenti è Google Pay. Ok, usa app predefinita, quindi usa sempre l'app predefinita. Per cui Google Pay è l'applicazione che farà il pagamento tramite il contactless dello smartphone, tramite l'NFC dello smartphone. E mi sta bene, non cambio niente di queste due voci, ma vado a primerci sopra perché voglio vedere se c'è qualche altra opzione. Voglio capire cosa potrei scegliere in alternativa. Quindi vediamo che vado a premere lì sopra. Ripeto, non serve. Allora qui c'è solo Google Pay. Come app c'è solo Google Pay. Vuol dire che nel mio smartphone non ho un'altra applicazione che gestisce questa cosa, quindi non potrei scegliere nient'altro. Ok, ma tanto Google Pay mi va bene. Vado a vedere cos'altro dice usa app predefinita. E dice usa sempre l'app predefinita. Come abbiamo visto prima, sostituisci l'app predefinita quando è aperta un'altra app di pagamento. Ok, non serve cambiare niente perché non ho un'altra app di pagamento. E a questo punto questa fase è finita. Posso uscire da tutto perché il mio NFC è attivo. Possiamo verificarlo da qui. Qui in alto adesso c'è questo simbolo che dice che l'NFC è attivo. Questo simbolo visto da vicino, adesso nella registrazione magari non si vede, è una n dentro un quadrato. E quindi l'NFC è attivo e il mio telefono adesso può pagare per contatto. Quindi tornando al discorso di prima, se qualcuno mi appoggia il dispositivo per prendere dei soldi vicino al telefono, il telefono paga. Vedremo come tutelarci di questa cosa. Abbiamo detto che la carta è dentro un portafoglio speciale, tra virgolette, ma il telefono no. Quindi vediamo come tutelarci in quel caso lì. Comunque adesso ho attivato NFC per poterlo usare. Però dovrò sincerarmi che Google Pay, quindi l'applicazione che farà i pagamenti, sia impostata correttamente perché altrimenti non pagherà. Se non hai soldi questa Google Pay non potrà pagare. Andiamo a vedere come si fa. Allora innanzitutto Google Pay è un'applicazione che abbiamo tutti tra le app di Google. Se non ce l'hai la puoi scaricare dallo store. Vai su Play Store, scegli Google Pay e la scarichi. Ma tutti gli smartphone moderni ce l'hanno già dentro perché fa parte della dotazione del nostro smartphone. Devo fare scorrere perché è qui sotto. Quindi eccola qua. Google Pay, G-Pail, Wallet. Adesso probabilmente il nome di questa app è stato cambiato in Wallet, portafoglio, se vogliamo tradurlo almeno a quanto ne so. E quindi sono andato lì dentro per fare la regolazione del mio portafoglio. Vediamo che cosa trovo dentro. Arrivo qui e mi dicono puoi pagare ovunque sia accettato Google Pay. E quindi aggiungi una carta. In pratica spesso sui negozi c'è l'adesivo Google Pay e tu sai che puoi pagare con quello. Ma in definitiva dove paghi contactless penso che tu possa pagare in questo modo perché è molto molto diffuso. E quindi paghi con lo smartphone. Ok, quindi mi sono guardato un po' attorno e poi ho dovuto aggiungere una carta, ovviamente. Vediamo che cosa faccio. Secondo me faccio scorrere un po' per guardare quali sono le opzioni, che cosa c'è scritto e poi mi dico, vabbè, aggiungerò una carta. Andiamo a vedere. Quindi scorro, premo su aggiungi una carta e qui adesso mi dice aggiungi una carta di pagamento. Allora, il mio account Google ha già una carta di pagamento valida al suo interno perché in passato nell'account Google ho inserito una carta di pagamento che poi è la mia post e pay, questa qui. E quindi lui lo sa, nel mio account c'è già questo pagamento. E se non ci fosse, qui non ci sarebbe la carta, dovrei premere su nuova carta di credito o di debito, quelle di debito sono le prepagate, tanto per capirci, e potrei semplicemente compilare tutti quanti i dati. In questo caso non ho avuto bisogno di compilare tutti quanti i dati, ho dovuto premere qui sopra su configura i pagamenti contactless per fornire solo dei dati aggiuntivi. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa, quindi ho premuto sulla mia visa e adesso aggiungo i dati aggiuntivi. Ecco che il telefono fa l'operazione e questa schermata delicata non viene registrata, quindi non si vede mentre scrivo i dati aggiuntivi perché il telefono per protezione di questi dati non li registra. In definitiva io mi sono trovato che il telefono conteneva già tutti i dati della mia carta, ovvero nome e cognome dell'utilizzatore, numero della carta, data di scadenza, ma non aveva i tre numeretti sul retro. Su tutte le carte di credito sul retro, qui sotto il mio dito, ci sono tre numeri. Questi tre numeri, se ce ne sono di più, sono gli ultimi tre comunque quelli che ti servono, questi tre numeri servono per autorizzare il pagamento online solitamente, ma anche per il contactless in questo caso. Quindi l'applicazione Google Wallet e Google Pay, Google Wallet, mi ha chiesto quei tre numeri che io sono andato ad inserire. Dopodiché ha fatto un collegamento online per autorizzare la carta. Quindi ho scritto i tre numeri, lui è andato avanti direttamente e adesso vediamo che cosa è successo. Dopo aver scritto i tre numeri, lui è partito da solo e poi è uscita questa schermata che mi dice Stiamo contattando la tua banca. Benissimo, aspettiamo, vediamo che cosa dice la mia banca. Quindi tutta questa cosa viene online e qui mi dice Termini dell'emittente. Vuol dire che l'emittente di questa carta di credito, per cui le poste in questo caso, hanno delle regole da seguire, degli avvisi da leggere per capire come funziona. Per cui mi sono messo qui e l'ho letto. Quindi ho letto questi termini per capire che cosa mi aspettava. Tra le altre cose ti dice, ragazzi, mettiamo il PIN o comunque un codice di sblocco allo smartphone, perché se lo perdi quello paga, quindi deve essere protetto. Ah, tra l'altro, se tu ce l'hai in tasca e qualcuno ci appoggia il dispositivo per, diciamo, prenderti dei soldi, se il dispositivo è bloccato, quindi se non ho messo l'impronta digitale, se non mi ha riconosciuto con lo sblocco facciale, se non ho messo il PIN, quindi il dispositivo è bloccato, non può autorizzare il pagamento. Quindi c'è già una sicura. Il tuo telefono è bloccato, ergo è protetto da pagamenti fraudolenti che potrebbero avvenire in luoghi affollati tramite qualcuno che prova a vedere se può prenderti dei soldi. Quindi telefono bloccato, ormai sappiamo che è una condizione indispensabile per avere anche questa sicurezza. Va bene, vado avanti, quindi qui mi leggo tutto, poi probabilmente sono anche tornato indietro per leggere meglio alcuni passaggi e poi a un certo punto ho detto espandi, nel senso che andiamo avanti con il discorso. Come disattivare questo servizio? Ti basta semplicemente rimuovere la carta da questo wallet, da Google Pay, e tu non hai più il servizio contactless tramite lo smartphone, ma puoi anche spegnere l'NFC e sei a posto così. Va bene, andiamo avanti, qui ci sono tutte le avvertenze. Se hai una carta diversa, le avvertenze saranno diverse. Il concetto probabilmente è sempre quello, però le avvertenze saranno diverse perché dipenderà dalla banca emittente di quella carta e quindi ti dirà quello che è importante per loro. Ho letto, ho detto andiamo avanti, elaborazione dati della carta in corso. Ok, quindi aspettiamo che tutto si finalizzi. Vediamo cosa succede, sempre online, attendiamo la linea telefonica e quant'altro. Allora, nel frattempo ho ricevuto un'email, questo bip che si è sentito è stata un'email, eccola qua, ma non c'entrava niente con questo discorso, quindi è caduta questa email in un momento particolare da dire ah guarda mi hanno già scritto un'email, invece no, è tutt'altra cosa, quindi niente. A questo punto deve essere verificata la carta, cioè vogliono essere sicuri che io sia il proprietario di questa carta e quindi che io vada a finalizzare la cosa, dire sono io. Quindi vediamo che cosa devo fare, devo dire continua sicuramente, ma vediamo che cosa succede. Eccolo qua, mi dicono guarda, la tua banca, quindi PosteP in questo caso, vuole confermare la tua identità. Magari se tu utilizzi una banca diversa, questo problema non ce l'hai, difficile perché è una funzione di sicurezza, quindi sicuramente qualcosa faranno. Però questa, PostePay, vuole verificare la tua identità mandando un SMS al tuo numero. Qui scrivono le ultime tre cifre di quel numero in modo che tu possa riconoscerlo. Ti danno un SMS con un codice che tu dovrai riscrivere dentro l'applicazione per confermare che sei veramente la persona in possesso della carta e anche di quel telefono, così sanno che sei tu. Quindi dico inviami l'SMS, invia SMS. Una volta che ho letto dico ok, invia SMS. Potrebbero essere applicate le tariffe standard di ricezione di SMS. In realtà nel mio caso non ho pagato niente, non si paga quasi mai niente, però dipende dal tuo contratto telefonico. Quindi questa è una questione diversa dal tuo contratto telefonico, dal tuo contratto con PostePay, eccetera. Se ti mandano le comunicazioni e te le fanno pagare, le paghi. Nel caso di Poste direi di no, a me non hanno mai fatto pagare nulla e immagino che sia così anche per te, ma quella è una questione che devi vedere eventualmente tu con Poste o con la tua banca. L'SMS verrà inviato un altro telefono. Qui mi dicono, sembra che il numero in possesso della tua banca non corrisponda al telefono che stai utilizzando. Controlla l'altro telefono per verificare di aver ricevuto un SMS. E qui mi dico, ma no. Pensandoci adesso, io ho cambiato il telefono da tempo, ma il numero è sempre quello. Vediamo che cosa succede. Quindi dico, ma no, perché il mio telefono è questo, il mio numero di telefono è questo, devi mandarmelo qui. Vabbè, dico ok e poi vedo che cosa succede, perché qui posso dire solo ok, quindi premo su ok. Qui ci sto pensando, sto dicendo, ma allora com'è questa cosa? Poi premerò ok, non si può fare altrimenti. E da soli poi mi hanno mandato l'SMS. Quindi in definitiva, dopo che ho premuto ok, il codice comunque è arrivato. Diversamente avrei premuto di nuovo invia SMS, perché mi dico, il numero è quello lì. So che posta ha il mio numero sicuramente giusto, quindi deve funzionare. E quindi ho detto semplicemente ok, la cosa poi è andata avanti. Ho ricevuto il codice di verifica e vado a scriverlo qua dentro. Vediamo se ricevo il codice. Quindi sono in attesa della ricezione del codice. Eccolo qua, post e pay. Quindi richiesta di abilitazione. Poi ci sarà da leggere tutto quanto il messaggio, cosa che probabilmente avrò fatto, perché mi serve il codice. Eccolo qua. Quindi ho trascinato dall'alto il mio smartphone per leggermi il messaggio. Però ancora... Ah sì, il codice è mascherato qua da una parte. Mi dice, richiesta di abilitazione a Google Pay. Attento alle truffe. Post e non lo richiede mai. Non comunicarlo a nessuno. Codice di verifica. Quindi attenzione a questa cosa quando ti chiedono i codici di verifica. Se l'hai chiesto tu e la richiesta è congrua, richiesta di abilitazione a Google Pay, ok, l'ho fatto io un attimo fa, ho premuto su invia sms, arriva perché l'ho chiesto io. Ma se ti arriva così perché tu non ne sai niente e quindi stai facendo le tue cose e ti arriva questo codice e poi magari qualcuno ti manda un messaggio whatsapp o una telefonata per dirti guarda mi sono sbagliato, sentimi, ti è arrivato un mio codice perché ho sbagliato a mettere il numero. Ma lo passi? Insomma, tutta una storia dove ti racconta qualcosa di plausibile e vuole quel numero lì, questo che in questo caso è nascosto, tu non glielo devi dare. Lui può fare altrimenti. Non ha bisogno di telefonarti. Può risolvere la situazione, se fosse vera questa cosa, senza bisogno di telefonarti o senza bisogno di mandarti messaggi. Quindi qui ne va della tua sicurezza e dei tuoi soldi. Per cui quando ricevi questi messaggi di autenticazione, poste pay, whatsapp, facebook, qualsiasi altra cosa, tu non devi mai dare quel codice lì ad altre persone via sms, via whatsapp, eccetera. Se l'hai richiesto tu, lo scrivi dove serve. Altrimenti fai finta di niente. Anche se la comunicazione sarà assertiva. dammi quel codice lì per favore oppure invia subito questo codice A. Tu non devi fare niente. Questa è una cosa importante. Però io il codice lo devo scrivere nella applicazione. Quindi sono andato avanti, sono tornato su col dito per avere di nuovo l'applicazione davanti. Qui ho letto il messaggio, ovviamente, e qui ho scritto il codice a un certo punto. E poi ho detto continua. Quindi ho scritto il codice, ho detto continua, e a questo punto abbiamo finito. Adesso nel mio Google Pay in Wallet di Google, quello che è, appare Post e Pay. Qui c'è il numerino. Ci sono gli ultimi tre numeri della carta in modo che io possa riconoscere che è la mia, che ho fatto tutto bene. E basta. La carta è pronta per il pagamento contactless. Fine di tutti i discorsi. Dato che ero qui, mi sono guardato un po' attorno. Quindi ho fatto scorrere, ho guardato un po' cosa c'era scritto ancora. E qui, beh, intanto qui devo premere solo ok su come effettuare i pagamenti contactless, perché non ho altre cose che posso fare. Non posso scorrere, non posso fare niente. Quindi, vabbè, ho detto ok. Quindi ho letto un po'. Poi ho detto ok. Sono tornato nella schermata dove c'erano tutti gli avvisi e ho guardato come effettuare i pagamenti contactless. Grosso modo, so come si fa. Di solito prendi la carta, la appoggi sul lettore del venditore e sei a posto, ma con lo smartphone non l'avevo mai fatto. E quindi ho guardato questo esempio che mi dice la carta la devi posare in questa zona e poi vediamo com'è. In questo caso non sarà la carta, ma sarà lo smartphone. mi dice che devo sbloccare il telefono e avvicinarlo al lettore. Fine dei discorsi. Se vedi il segno di spunta il pagamento è andato a buon fine. Quindi quando esce il numero della carta o meglio la carta è un segno di spunta hai pagato. Tutto a posto. Sembra facile. Quindi ho chiuso tutto, siamo a posto e mi sono detto va bene, alla prima occasione la provo. Il giorno dopo l'occasione si è presentata e ho registrato un video. Andiamo a vedere. quindi sono da qualche parte, ho ordinato un qualcosa e devo pagare. Quindi al momento del pagamento il lettore del venditore mostra il simbolo del wifi, questa cosa del pagamento contactless, io prendo il mio telefono, lo sblocco con l'impronta digitale e lo appoggio al lettore. Si sentirà un beep e una vibrazione io sento nel telefono per farmi capire che l'operazione è andata a buon fine. Vediamo. Fatto. Abbiamo sentito il beep, l'operazione è andata a buon fine, quello che vedo io è Google Pay e la carta. E qui da qualche parte ci sarà anche il visto. Però ho sentito la vibrazione, ho sentito il beep e siamo a posto. Quindi di fatto ho pagato. Torniamo indietro un attimo per vedere l'operazione e in quanto tempo si compie. Quindi torno indietro all'operazione e la lasciamo finire completamente per vedere che si impiega veramente poco. Quindi partiamo. Ecco, in tempo reale esce lo scontrino. Quindi questo è quello che ho dovuto fare. Sbloccare lo smartphone, avvicinarlo al lettore e poi guardare il lettore intanto che mi sono reso conto se era andato tutto bene. È uscito lo scontrino e siamo a posto. Ovviamente nell'applicazione io avrò la ricevuta. Adesso magari andiamo a vederla. Quindi questa è la fine dell'operazione. Due cose voglio farti vedere. Beh, la ricevuta dell'operazione se ci riusciamo. Ho ricevuto anche un'email credo dell'operazione. Ma quello che mi interessa farti vedere è questo. Io ho scattato una foto di un'impostazione di sicurezza. Quindi qui dentro il wallet dopo che ho pagato eccetera eccetera c'è tra le varie impostazioni una schermata che dice questo. Allora numero di conto virtuale Visa è un numero che è diverso da quello della mia carta di credito. Quindi perché? Per garantire la sicurezza del tuo conto quando esegui pagamenti contactless al posto del numero di conto reale viene condiviso con il commerciante un numero di conto virtuale. Quindi quando tu paghi col telefono al commerciante venditore non viene dato il numero della tua carta. Lui magari non se ne farebbe niente ma se viene lui diciamo violato nei suoi sistemi di sicurezza troverebbero all'interno il numero della tua carta e quindi rischi anche i tuoi soldi. pagando con lo smartphone lo smartphone comunica un numero diverso riesce a pagare lo stesso ma comunica un numero finto quindi anche se il venditore viene violato nei suoi sistemi di sicurezza la tua carta non viene violata perché non è vera quella che gli è stata comunicata non è vera quindi anziché usare il contactless con la carta direttamente se uso lo smartphone ho questa sicurezza in più quindi questa non è una cosa da poco. bene e quindi qui abbiamo visto un po' tutto allora come faccio a proteggermi da eventuali persone che appoggiano il loro lettore magari in un luogo affollato abbiamo detto che il telefono deve essere bloccato se è bloccato non succede niente però in realtà un'altra cosa semplice da fare è spegnere l'NFC quindi qui io ora non ho l'NFC attivo vediamo come si va ad attivare quindi faccio scorrere dall'alto ripetiamo sono qui il mio NFC non è attivo questa è una sveglia e questo è un whatsapp trascino dall'alto quindi trascino dall'alto la barra delle notifiche faccio scorrere queste sono tutte le funzionalità qui ho NFC questa N la premo e a questo punto l'NFC eccolo qui è attivo quindi diciamo che se voglio stare più sicuro semplicemente giro con l'NFC spento quando devo pagare qualcosa non faccio altro che far scorrere accendere l'NFC in questo caso io l'ho spento perché era acceso e basta poi poggio il telefono al lettore del venditore e siamo a posto comunque siamo sicuri perché il telefono è bloccato però se sono molto pignolo posso anche fare in questo modo andiamo adesso a vedere invece le ricevute quindi cosa ho pagato quanti soldi ho speso con il mio telefono contactless vado in google faccio scorrere vado in wallet e vediamo che cosa ho speso a questo punto mi dice guarda che l'NFC è spento eh ragazzo infatti è spento perché lo abbiamo appena fatto non lo attivo dicono no ora lasciamelo ho spento e vediamo dove posso trovare le ricevute se premo sulla carta vedo che ho pagato 10 euro il 21 gennaio in questa operazione a questo venditore se premo dettagli vediamo invece che arriviamo al discorso del conto virtuale di quel messaggio che ti ho mostrato poco fa quindi siamo a posto direi che ci siamo detti tutto sull'NFC ma perlomeno applicato ai pagamenti perché può essere usato anche per molte altre cose magari le scopriremo e ti invito a mettere un mi piace al video se ti è piaciuto ad iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto per te è gratis per noi è importante e se ti va ad abbonarti al canale YouTube Associazione Culturale Maggiolina per vedere i video della serie speciale riservata agli abbonati ci vediamo presto ciao ciao